Perché anche Renzi, Renzi è un riformatore, ma non nel senso che intende lui, è un riformatore nel senso che qualunque spazio politico occupi cerca e tende di dargli la sua forma, a dargli la sua forma. Per cui se entra in un partito e riesce a dargli la sua forma, la sua idea di leadership è proprio plastica, ci rimane e se lo tiene. Quando quel partito non si fa piegare, lui esce e se ne fa un altro che gli somiglia.